Certo Leonchi sei una gran testa di cazzo C'è hai appena visto quella scena e hai il coraggio di... Vabbè, contento te Vediamo esattamente di che mostro si tratta Abbiamo visto che è un mostro marino Guardate, sta passando sotto la nave La nave o la barchetta Ed è una rucertola ragazzi Sicuramente qualcuno starà facendo il pignolo adesso Sono convinto Però adesso vi spiego Minchia si è attaccata alla coda Ovviamente quella rucertola lì è stata modificata Geneticamente dal verme Quindi... Oh me no Dobbiamo risalire sotto in atto Perché sennò ci acchiappa Dov'è? 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 Vai colpito Dov'è? Merda, è di qua È di qua Eccolo Oh oh Sì Che culo Mamma mia che culo Ripartiamo Si Ehi Aia Mi ha colpito in pieno Guardate quanto sangue sta perdendo quella rucertola di merda Oddio mi sta prendendo ragazzi mi sta prendendo Mi sta prendendo Dai sali leon Uh che culo Che culo ragazzi Mamma mia che culo che ha leon Mangiamoci l'uovo Merda Anche questo Vai Ora va meglio Vai Due polpi Eh adesso dov'è? Aspansione Di qua, di qua, di qua Eccola Salamandra di merda Cucertola della micchia T'ammazzo Sì Abbiamo ucciso quella merda Abbiamo ucciso finalmente No Leon Cazzo Merda Eh ragazzi Dobbiamo tagliare Interattivo Merda Mi sono dimenticato Vai Leon Sì perché peserà Non so quante migliaia di tonnellate Quella cazzo di ricertola Quindi Sarebbe portato dietro anche Leon Sei un culacchione Sei un culacchione Che figo Riaccendo il motore Eh beh Se questo era il primo boss Se questo era il primo boss Ve l'avevo detto Non era un granché come primo boss Proprio perché è il primo boss No? Quindi il più facile Però vedete Leon Comincio a perdere sangue Quindi i primi sintomi del placas Ci sono tutti Non manca tanto Avremo un Leon Parassita Come tutti gli altri abitanti Del villaggio Che obbedirà Gli ordini Di Sadler Se non si sbriga a fare qualcosa Insomma Salviamo ovviamente Quindi abbiamo ucciso il lago Ora manca El Gigante Che è un altro boss Il secondo boss Che becchiamo Quello è un Un bell'incontro Devo dire Vi divertirete un casino Sì anche perché lo stranzone È in mutande Quindi Eh guardate il parasita Che schifo Sta crescendo Guardate il braccio Ovviamente era un sogno Perché Succiderà quello Ma ancora è presto L'uovo Si sta schiudendo piano piano Quindi Poi deve crescere Piano piano il parassita Vedete Ha sognato Un incubo Hannigan Wow Sei ora addormito Quindi Quindi Lui è sempre simpatico Ok continuiamo la missione Uh addirittura Addirittura la luce Lettera anonima C'è un oggetto importante Nascosto alle cascate Se lo trovi potresti riuscire A liberare Esceli dalla chiesa Quindi dobbiamo trovare le cascate Ma stai in guardia Il cammino per arrivare alla chiesa Non è una passeggiata Hanno schierato un esercito Un certo Scusate Io è un esercito Ho capito Un certo El Gigante Che vi avevo parlato prima Che è il secondo boss Quindi fai attenzione Riguardo a quello Che sta succedendo Al tuo corpo Mi piacerebbe aiutarti Ma la situazione Va oltre le mie competenze Credo sia Di Ada o Luis Questa lettera Quindi uno dei due Guardate la luce di Leon Munizioni Una granata Che sporcizia Eh beh Meno male che hai dormito a terra Salviamo Allora Dove cazzo siamo? Dall'altra parte del lago Ok Qui tesori Non ce ne sono Controllato Però Fa niente Cerchiamo lo stesso Magari qualche cassa Qualcosa Niente Ok Si vuol dire Che è stato anche abbastanza Fortunato Leon Perché è svenuto In quella casa E non c'era nessuno Ma quest'ora sarebbe morto Guardate Il verme Che dopo sei ore No Ora È passato un bel po' di tempo Quindi Eccolo Fuoriesce E' pericolosissimo Perché se ci avviciniamo Fa un male cane Fa un male cane Ecco Gliel'abbiamo tolto Uh quanti soldi Ok è andato Adesso quando spariamo la testa E lo ammazziamo Un tizio di quelli C'è una piccola probabilità Che appunto Gli esca il verme Quindi molto più pericolosi Ora Un tizio di che Vediamo sempre Controlliamo per qualche Sì infatti C'è un tesoro Qua vicino Quindi teniamo gli occhi aperti E non ce lo facciamo sfuggire Chi è che ci sta tirando Ah ecco È già morto Wow Speriamo la cassa E controlliamo per il tesoro Eh il tesoro sta qua Eccolo l'ho visto Sta allucinando Vediamo che cos'è Interessante Ah sì giusto Dovevamo trovare Giusto la cascata E l'abbiamo trovata Prima il Il biglietto anonimo Diceva che Trovando la cascata Dietro c'era Qualcosa che ci avrebbe aiutato A trovare Ashley Quindi è semplicissimo No dobbiamo trovare un modo Per diminuire La potenza della cascata In modo da poterci passare Va bene Ok Niente Peccato Speravo in delle munizioni Che non è che ne abbiamo tantissime Vediamo se c'è un interruttore Sì infatti Un interruttore Cosa fa? Ah certo certo Prende un po' dell'acqua Vedete? Quindi diminuisce la potenza Della cascata Ah no 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 Che sto di Chiude la diga No Invece ancora no Due volte ho sbagliato Ha spostato la Direzione dell'acqua Ecco Infatti adesso Si può passare Eccoli C'è addirittura uno con gli occhiali Lol Eh no bello No non ci vado Trans Ancora questo Non hanno capito Tutti in acqua Tutti in acqua Tutti in acqua A mostrarle Chiappe Chiare Vai Ah che bello Il bagnino Cioè ci fanno fare il bagnino ai bambini Affogate brutti stronzi E qui sopra cosa c'era invece? Non ci siamo mica andati Ah ma è cazzo Bella Ah entriamo in questa grotta Ricordatevi che qui troveremo qualcosa Che ci aiuterà a trovare Ashley nella chiesa Ad aprire la chiesa Perché non so se vi ricordate che la chiesa era sigillata Completamente What the fuck Così Ah è il sigillo Eh quello è il sigillo della chiesa Ok un attimo ragazzi Ok un attimo ragazzi Ok un attimo ragazzi Ok un attimo ragazzi